E' così. Benvenuti alla nuova tutta di School Dance, incredibili aggiornamenti, oggi il nostro amico Mandrilli è stato purtroppo eliminato, ma abbiamo con noi un degno sostituto, ecco qui il nuovo, il nuovo Cedro Nogastese. Ho pronto. Sì, le tue aspirazioni. Ho una grande voglia di conoscere il maestro Gianluca, ho visto in televisione e ho visto innamorato. Ce l'abbiamo qui, maestro Gianluca. Grazie! Oggi vi presenterò, faccio una coreografia, ho dormito stanotte per fare il suo studiato, per questa coreografia, il nostro Michael! Michael Gettos! Maestro, lo dico alla lettura di oggi, allora? Oggi faremo un ballo di gruppo tutti insieme, vai ragazzi! E' così! Grazie per la prossima puntata, con gli altri aggiornamenti e adesso ci diventiamo nuove sfide e nuovi e emozionanti incontri. Ciao a tutti, applauso! Grazie!